Buon divertimento e vai i nostri youtuber che si applicano alla danza Vediamo un po' cosa succede Dovete prendere il braccio Dai prendetelo il braccio Dai siete youtuber dovete fare qualcosa Aiuto Devettelo su Ecco cosa vuol dire you board ragazzi Vai di nuovo giù 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 E ora su Ragazzi abbiamo dei minori davanti Per favore Divelo su mezzo Più veloce adesso Ecco Dai vai Gira gira Devi bastare in mezzo Ma no quell'ombrello L'ombrello non ce l'hai con te Lascialo giù Dai più veloce Giù Vai Giù 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 Vai Riecompagniamo con le mani A tempo vai E ora E ora più veloce E E E E E E E Più veloce Più veloce L'ultimo Vai 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 E 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 Scusami Giovanni 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 Allora Io mi tengo Il telefono Vi consigliatevi delle comande per favore Cagli 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 Sì. E viste tu, come? Come? Sì, era di Assassin's Creed. Grazie, ragazzi. E tempo il poster di Far Cry. I prossimi quattro.